Siamo con Tiago Reynaldi, Tiago un'altra vittoria contro una squadra che nel suo momento migliore ha subito i vostri attacchi, il gol del 2-1 e del 3-1 che hanno di fatto cambiato la partita e messo i tre punti per voi. Sì, siamo entrati con la concentrazione giusta, sapevamo che loro erano una squadra forte, di molti stranieri, però ci siamo allenati bene questa settimana e alla fine abbiamo visto il risultato. Al 2-1, tutte le vittorie, sembra essere questa la vostra forza qui. Sì, in casa dobbiamo vincere tutte le partite. Che affrontiamo qua, entriamo con la voglia e la grinta giusta. Grazie. Prego.